salve a tutti rieccoci in quest'altro video dove analizziamo proprio un big match alexander alekin che di certo non ha bisogno di presentazioni dall'altra parte salomol flor uno dei giocatori più forti degli anni 30 scacchista cecoslovaco e ottenne successi soprattutto alle olimpiadi di scacchi del 1930 ottimo stratega quanto che tattico e forse la guerra alla fine spezzò la sua la sua enorme ascesa visto che lui non giocò mai un campionato nel mondo ma comunque ci andò molto vicino introdusse anche diverse varianti più volte fatti nominato le varianti flor per esempio nella difesa carocan nell'inglese l'attacco flor michenas e anche nella grunfeld è una variante che non è molto utilizzata ma comunque sempre battezzata proprio con nome di salon flor bene il risubito di cominciare questa bella sfida alekin questa volta si ritrova di fronte un avversario che è tutt'altro che uno sproveduto ma alla fine pian piano riuscirà a logorarlo d4 d5 gioco chiuso c4 alekin un attaccante incredibile che utilizzava questo comunque può essere una sua peculiarità sotto questo punto di vista parlando del repertorio delle aperture cercava sempre lo preferiva d4 e cercava sempre di trattare aperture di gioco chiuso come il gambetto di donna con un giocatore da e4 piuttosto che da d4 oggi vediamo quindi un approfondimento anche sul gambetto di donna accettato visto che flor ha deciso di prendere subito in c4 le mosse più frequenti parlando di gambetto accettato quali sono cavallo f3 e4 e3 poi si possono creare quelle famose tipo la trappola del pedone dorato ma di certo questi livelli facevano solo il solletico quindi cavallo f3 proseguire con lo sviluppo dei pezzi qui cavallo f6 da parte del nero e3 tutto abbastanza teorico con e3 finalmente si va subito a taccare il pedone in c4 e la prima idea può essere quella di difenderlo subito con b5 ma qui arriva a 4 come consiglia la teoria allo scopo sempre di andare ad attaccare la catena proprio di pedoni iniziando proprio a minare la base qui per esempio anche giocare c6 non porta granché il bianco può andare a creare questa bella battaglia di pedoni e alla fine riesce comunque a riprendere la qualità quindi sgretolare tutta questa catena costruita dal nero meglio giocare direttamente e6 con cui soffrirà un po' l'alfiere campo chiaro ma comunque serve per migliorare poi la posizione di tutti i pezzi alfiere per c4 qui arriva c5 in maniera diretta flor va subito ad attaccare il centro arrocco corto per alekin e qui cavallo c6 bisogna andare avanti prepotentemente direi con lo sviluppo questo è lo stesso una variante molto frequente una posizione molto familiare perché gioca il gambetto di donna accettato quindi il cavallo c6 finalmente procede con lo sviluppo dei pezzi piano partita la parte nero quale dovrà essere alfiere ne7 arrocco corto per puntare sull'apertura possibilmente della colonna c donna in e2 la parte di alekin a6 qui con lo scopo di spingere b5 quindi coniugare proprio lo sviluppo l'espansione e il guadagno di spazi a ovest con l'attacco verso i pezzi avversari quindi guadagnare sempre un tempo alekin comunque se infischia procede centralizzando la torre in d1 ottima manovra qui arriva per la punto b5 e il nostro caro alekin qui decide di prendere in c5 che è una mostra assolutamente corretta qui si va subito ad attaccare la donna quindi un modo comunque ottimo risposta migliore qui per difendere indirettamente alfiere in c4 quindi la donna viene attaccata va spostata in c7 e ora alfiere in d3 perché qui si può pensare ok alekin poteva direttamente giocare alfiere in d3 visto che comunque doveva salvare subito alfiere stesso ma in questo caso ci sarebbe stata la colonna d totalmente chiusa quindi l'obiettivo deve essere sempre quello di migliorare pensare a come rendere più attivi tutti i pezzi qui sul fiere d3 tra l'altro c'era anche c4 che andava a ingabbiare l'alfiere in c2 posizione veramente pessima inguardabile meglio invece qui d per c5 quindi stabilire subito una precedenza andare ad attaccare la donna avversaria che va in c7 alfiere in d3 con posizione assolutamente migliore in questo modo comunque flor si può riconsolare riguadagnando il pedone perso a4 b4 nero congela subito ogni possibilità di reazione da parte di alekin a ovest cavallo in d2 e flor può arrocare corto posizione comunque molto solida compatta tranne sulla donna ma queste sono posizioni che scatturiscono molto spesso da un gammetto di donna accettato invece per quanto riguarda l'atto est della scacchiera flor riesce ad avere un'ottima solita difensiva qui arriva immediatamente cavalli in b3 con cui si va attaccare l'alfiere si potranno e si devono assolutamente attivare tutti gli altri pezzi flor decide adesso una mossa un po più cauta come alfiere e7 e qui e4 il bianco conquista il centro apre la diagonale alfiere camposcuro e qui il piano di sviluppo quale dovrà essere alfiere in e3 alfiere in g5 dipende dalle mosse dell'avversario e poi subito dopo torre in c1 quindi sempre parlando di come ottenere il massimo valore da ciascun pezzo affinché tutti possano giocare per poi cimentarsi in combinazioni unitattiche vertiginosi di cui certo alekin è stato uno dei migliori della storia cavallo in d7 qui si procede con alfiere e3 rendendo impossibile quindi lo sviluppo dell'alfiere in g5 questa sarebbe stata una soluzione senza particolare veleno per il bianco cambio si cambiano i pezzi cavallo salta g5 ma da solo può fare ben poco meglio invece come tipico poi della filosofia di gioco di alekin giocare alfiere 3 quindi mantenere più pezzi sulla scacchiera così davvero tutto il materiale per poi divertirsi alle spalle dell'avversario che qui gioca cavallo in e5 andare subito ad allentare la tensione conoscendo la fama di attaccante incredibile del suo avversario cambio cambio torre in c1 sviluppo e qui allo stesso tempo si riesce ancora una volta ad attaccare la donna che a questo punto trasloca per l'ennesima volta stavolta lo fa in b8 alfiere in c5 andare subito ad attaccare l'alfiere qui in questa diagonale che vi venda sempre un po più infuocata cambio cavallo per c5 ok flor è riuscito nel suo intento che era quello di cambiare subito i pezzi quindi i propri difensori per gli attaccanti avversari ma attenzione che nel fare ciò i pezzi che in questo momento rimangono sulla scacchiera sono estremamente passivi per il nero alekin invece molto tranquillamente può puntare si può permettere proprio un gioco più vivace con i vari pezzi qui si poteva andare avanti a oltranza con cavallo per d3 spazzando via l'alfiere una linea sicuramente da non giudicare come negativa per il nero che preferisce comunque donna in b6 quindi attivare maggiormente i pezzi quello fosse un po' che ci aspettavamo qui il cavallo ben difeso non ci sono particolari rischi in questa posizione per il bianco che decide quindi di andare avanti con il suo attacco quindi andare ad aprire le linee e cercare di attaccare di localizzare o meglio a creare noi delle debolezze questo è quello che deve sapere fare un grande attaccante come alekin che avanza con donna in h5 qui il cavallo torna in d7 e si commette già un errore di cui vedremo poi in seguito anche gli effetti visto che il cavallo in d7 può permettere in futuro l'avanzata del pedone in e5 con cui si potrà attaccare poi in questo caso se minaccia il matto ma vedremo poi un po' a lungo termine quali saranno gli effetti di questa mossa sul cavallo d7 l'obiettivo è spazzar via subito il cavallo in c5 quindi Flor punta naturalmente a rientrare in un finale con delle possibilità seppur minime di vittoria piuttosto che ma questo è anche ovvio parlando della filosofia dei giocatori quindi va sempre tutto contestualizzato è naturale che se ci fosse trovato Flor a giocare contro Capablanca avrebbe evitato assolutamente di rientrare in un finale visto che quello era il terreno migliore per Capablanca senza nulla a togliere ad alekin che però comunque riusciva a gestire a sentirsi più a suo agio in posizioni con più pezzi quindi per creare del gioco combinativo qui arriva al fierino e2 g6 per scacciare subito la donna ma alekin di certo non rinuncia ad attaccare per niente al mondo quindi donna in g5 cambio torre per c5 attivando sempre i pezzi qui il nero si ritrova un po' a corto di idee visto che la posizione risulta essergli sempre un po' più ostile l'alfiere risulta è assolutamente un pezzo ingabbiato quindi un pezzo in meno quasi per il nero quindi quali sono le ipotesi che dobbiamo prendere in considerazione mosse candidate alfiere in b7 andare subito a fianchettare qui innanzitutto arriva a 5 andando subito ad attaccare la donna che va in a7 torre in settima si possono ottenere ottimi vantaggi di posizione mentre il nero sicuramente l'idea di attaccare direttamente l'arroco per floor era assolutamente pura utopia per quanto riguarda il resto non ci sono grandi piani per esempio una torre in settima sarebbe stata sicuramente l'idea migliore perché va anche a inchiodare l'alfiere sulla donna rendendo impossibile per esempio ogni cattura su e4 torre per c5 cosa gioca floor lui sceglie a5 per evitare che sia il suo avversario qui a spingere rendendo ancora più scomoda la posizione in cui si ritrova e qui alekin decide di procedere quindi ha bisogno di rinforze abbiamo detto che la difesa è assolutamente un perno qui della posizione del bianco che può permettersi anche di spingere il pedone di torre quindi tradotto in mossa h4 andando ad aprire le linee poi è chiaro che in una situazione come questa sapendo ben coordinare i pesi pesanti la vittoria possa essere molto più semplice di quel che sembra alfieri in a6 proponendo l'ennesimo cambio di due alfieri ma stavolta alekin rifiuta alfieri f3 minaccia anche una spinta molto pericolosa in e5 per andare subito ad attaccare la torre o più debolezze allo stesso tempo f6 e qui viene completamente rovinata la struttura pedonale del nero non sarà di certo un problema trovare i punti deboli donne e3 qui per salvare il pezzo torre in d8 cambio cambio e adesso possiamo tranquillamente procedere con un rush finale qui il nero comunque si può dire che sia già spacciato innanzitutto perché flor non è mai riuscito a esercitare un gioco attivo qui la torre in d8 controlla una corona aperta ma è tutto abbastanza sterile e alekin poi ha trovato il modo di chiudere in bellezza con e5 prima di tutto aprendo la diagonale all'alfiere ma non è tanto questo il pericolo ma qui poi tutto ignorato da parte di flor che gioca f5 non vedendo la vera minaccia ovvero torre in c8 quindi con un sacrificio di torre qui alekin vince la sfida e flor abbandonato tutte le soluzioni incredibile qui tutte le soluzioni per il nero erano fallimentari innanzitutto viene attaccata la donna di scoperta quindi questa è la priorità rendendo impossibile torre per c8 perché lì si perde per insufficienza di materiale allora possiamo pensare di giocare donna per e3 donna per e3 così lui riprende peccato è che qui la torre sia sotto attacco e il bianco riesce a dare scacco qui donna per e3 è assolutamente fallimentare torre per gli 8 con scacco e in questo modo riesce a forzare subito il nero a muovere il re questo abbastanza elementare e qui si riprende con calma la donna entrando in un finale con una torre in più quindi vinto anche per un bambino per un neonato altre soluzioni qui non ce ne sono l'ideale per la donna nella posizione tra l'altro la ventinovesima quindi alekin ancora una volta è stato veramente veloce con torre c8 l'ideale per la donna qui sarebbe difendere se stessa e la torre cioè rimanere sintonizzata la casa c7 qui è controllata infatti dalla torre bianca in c8 altrimenti sarebbe stata proprio l'ideale per correre i pari invece in questo modo il nero deve perdere un pezzo e di conseguenza la partita tutte poi motivazioni assolutamente razionali che hanno spinto Salon on floor ad abbandonare quindi alekin questa volta è stato forse meno frenetico rispetto ad altre però comunque è riuscito a portare l'avversario sul suo terreno di gioco quindi sempre in posizioni molto taglienti dove la linea proprio quella più velenosa dal punto di vista tattico può sbucare da un momento all'altro e qui su e5 anche il suo versario veramente ultimo ricordiamo Salon on floor non riesce a vedere il pericolo qui per esempio il re f7 poteva essere molto buona perché qui il problema è che si dà scacco quindi dando scacco qui con torre per d8 il nero deve perdere la torre altrimenti in un altro contesto qui si cambiano le donne se il re fosse in questo momento in settima traversa si cambiano le donne e niente e poi si salva assolutamente la torre anzi sarebbe il nero il bianco stesso a perdere poi c'è anche qui alfiere c8 assolutamente da bocciare perché donna per b6 questo abbastanza non l'ho detto ma mi sembra abbastanza la palissiana quindi 29esima mossa torre in c8 colpo di genio l'ennesimo ormai dovremmo fare una galleria d'arte per commentare le partite di Alikin questo video verrà inserito nella playlist sulle partite top dei campioni dei grandi maestri classici e noi ci vediamo al prossimo